Lui è conosciuto come Mr. 45 furti. Tanti gliene contesta la procura, ma per il giudice Vicentino, l'ex agente di commercio, 47 anni, non doveva essere arrestato. È stata una tentata rapina a incastrarlo a causa di una telecamera di sorveglianza che lo aveva ripreso. Così l'imputato è stato condannato a sei anni e mezzo di reclusione anche per i famosi 45 furti commessi nel giro di pochi mesi, quando quasi tutte le notti avrebbe razziato ditte, negozi e bar di mezza provincia di Vicenza.